Il CNR ha come missione principale quella di produrre conoscenza, ma una missione molto importante è anche quella di cercare di valorizzare la conoscenza prodotta. Io credo che su questo punto, in questi anni non abbiamo fatto molto e oggi abbiamo la necessità anche per il nostro paese di cercare di utilizzare al meglio la conoscenza, sia creando nuove start up, ma anche quello di supportare le aziende, specialmente le medio piccole, per poter aumentare la loro competitività riempendo di conoscenze i loro prodotti. Io credo che questi siano sicuramente degli argomenti molto attuali, abbiamo visto oggi molti giovani che hanno presentato delle idee di grande interesse, con grande entusiasmo e con una capacità creativa veramente ammirevole. Abbiamo bisogno di fare interagire sia il mondo della produzione, con il mondo della ricerca e cercare insieme di produrre nuova competenza che possa in qualche modo creare una nuova imprenditoria che sia in grado di essere rapidamente competitiva.